S.A.R.I.S. Buongiorno, vuoi dire qualcosa? Snacking arrivo a ore dodici. Signori? Ecco lei. Grazie. Guarda la mini lattina, Spencer. Alec, quanto sei cretino. Pasta. Carino. Quando cominci a scoprire chi sei, allora capisci veramente quanto potere hai sulla tua vita. Ma lo puoi fare solo affrontando le difficoltà della vita. E quasi tutti evitano le difficoltà. Quasi tutti vivono la vita evitando il dolore. Quando coltivi un sogno, a un certo punto avviene un cambiamento. Impari a puntare più in alto. Comincia a sfidare te stesso, a scavare più a fondo. Dentro di te c'è qualcosa di sopito, qualcosa che non hai mai attivato. Non cercare di prendere scorciatoie. Fa la cosa giusta. Siamo stati scelti per questa grande avventura. Non pensi mai che la vita ti stia spingendo verso qualcosa. Uno scopo più elevato. Nata rosa. Tutto, non sopito. Non c'è. Si sono stati scelti per questa volta. Non c'è la tua vita. No. Grazie a tutti